Hop affronterà Steffi nelle prossime puntate di Beautiful che andranno in onda in America La giovane Forrester, però, ignorerà il duro avvertimento della sua storica rivale Ma perché la madre di Beth si ritroverà a combattere di nuovo con Questa volta non c'entrerà Liam, ma un altro triangolo amoroso, quello composto da Brooke, Ridge e Taylor Entrambe le ragazze vorranno difendere le loro rispettive madri e si accenderà un nuovo sconto Le ultime anticipazioni americane ci fanno sapere che quando Hop scoprirà che Brooke sta affrontando una situazione complicata In qualche modo incolperà a se stessa Sarà certa del fatto che sua madre sia caduta nel vizio dell'alcol perché stressata dal problema legato a Deacon Sharp Questo sta indubbiamente influenzando in negativo il matrimonio di Brooke Dunque, Hop si sentirà in colpa nei prossimi episodi La situazione, però, si sta ora capovolgendo La Logan non ha più intenzione di permettere a Deacon di entrare ogni volta che vuole in casa Ciò che accade nella notte di Capodanno destabilizza non poco Brooke e dietro c'è, ovviamente, lo zampino di una persona squilibrata Nessuno sa ancora che proprio lei ha fatto sì che la Logan ricadesse nella tentazione dell'alcol, finendo tra le braccia di Deacon E mentre Douglas è l'unico che assiste al tradimento di Brooke, Hop non vorrà assumersi la responsabilità di tutto Crederà che la crisi tra sua madre e Ridge sia causata anche dal ritorno improvviso La moglie di Liam sarà convinta che Taylor e Steffi stiano facendo di tutto per separare la coppia Deciderà così di avere un faccia a faccia con le due, per proteggere sua madre Brooke farà intanto fatica a restare sobri e Hop penserà che sia meglio che Taylor faccia marcia indietro Crederà che anche la sua rivale debba fare lo stesso, smettendo di spingere il Forrecer tra le braccia di sua madre Ebbene in questo nuovo confronto, Hop darà un serio avvertimento a quest'ultima sa bene cosa significa combattere contro una dipendenza Dunque non criticherà Brooke Continuerà però a pensare che questo non è un buon motivo per spegnere il suo desiderio di rivedere Ridge e Taylor di nuovo Penserà, quindi, che sua madre dovrebbe continuare a lottare per amore, al di là degli avvertimenti di Hop Sembra proprio che nelle prossime puntate, Steffi ignorerà completamente la richiesta Pertanto, durante la prossima settimana, i telespettatori americani potranno assistere a non pochi scontri Musica 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 Musica